Allora, anche oggi scuoto la testa, respiro però, per vostra tranquillità respiro. Allora mi domando, se io dovessi andare a votare domani mattina, io vi pregherei di dirmi per chi devo votare. Credo che tutti sappiano che il sottoscritto è sempre stato liberale, di destra, ho sostenuto per parecchio tempo Berlusconi, poi ho messo un pentì, ma in ogni modo ho sostenuto. Oggi se io dovessi andare a votare, non so cosa, i miei diri a qui due giorni là, dopo li interpelliamo, dopo li interpelliamo, in trasmissione sentiamo cosa dicono, io vi giuro che non so per chi votare, lo giuro. Allora, incominciamo, Berlusconi, no, mi vado scusate, un che se fai oggi corso, che se mette i capelli che, che se tutti era, no, 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 e poi tutti che ha litigato anche lì, Alfano che non ha per conto il suo, quell'altro da chi, ah, non so, c'è qualcosa che non va, non sarei più capace di votarlo. Salvini, no, guardate, via dall'Europa è una cosa che io non accetto. Salvini doveva fare un'altra cosa, cari signori, la secessione, perché noi dovevamo fare quello che aveva proposto Miglio, che era il grande sostenitore della Lega, cioè dovevamo fare l'Italia del Nord, l'Italia del Centro, l'Italia del Sud e la Repubblica Italiana fatta di tre Stati. In America, non c'era California, non c'è il Texas, voi due che mi guardate, ditemi se è vero, uno ha la pena di morte e quell'altro non lo ha, è vero o non è vero? Uno ha un certo tipo di polizia e l'altro no, l'altro ha i giudici di un tipo e l'altro no, ma perché noi non potevamo avere tre cose? Perché, cari signori, noi non possiamo andare avanti con il Sud che ha il 60% di case abusive. Perché vorrei vedere che va su uno, il governo dice, ah Salvini va su l'Ul, fa tutto, come fa in Sicilia a levare il 60% di case abusive? Non li manda? Dove li manda? Allora, i gadatank ha la luce, perché non solo hanno costruito la casa abusiva, ma quando uno ha costruito la casa abusiva, ha chiesto la luce, magari allora, quando l'era dell'Enel, ancora dello Stato, e chiedeva la luce. Allora, devo bere? E chiede anche l'acqua. E chiede anche l'acqua, ma farsi così, come tanti mi dà anche da bere, guarda. Allora, e chiede anche l'acqua, non solo manca la fognatura e poi la cia, la cia, c'è anche la fognatura. Allora, io dico, se alla zona che avevamo il 60%, ma fate uno Stato vostro, vi gestite voi, i vostri soldi, con le vostre abitudini, non volete fare la differenziata, non fate la differenziata, volete vivere nella cacca, vivete nella cacca, volete farvi, non so dire che cosa, ma, ma non con i soldi del nord. Questo era Salvini, adesso il va a candidare anche in Sicilia, cosa vale a candidare la Lega in Sicilia che non aveva niente da spartire? Allora, anche Salvini, che ho sempre anche visto con piacere perché la secessione era una cosa che veramente mi avrebbe fatto un grande piacere, anche a quel non voto. Allora la sinistra, la sinistra è la cosa più piacevole da vedere. Allora, Bersani, ah, io vado via dal PD perché non fa cose di sinistra. D'Alema, ah, io vado via dal PD perché non fa cose di sinistra. Cuperlo, insomma, le cose di sinistra. Quell'altro, ci vatti, ci vatti, ci vatti, eh, allora fate il movimento sì, quell'altro lebbe pi, quell'altro, allora io mi domando, ma fare cose di sinistra e far guadagnare la destra, secondo voi altri? Perché io mi domando, fare cose di sinistra significa far vincere la destra o no? Perché così, così, non ci piove che vincerà la destra. Perché a forza di separarsi vengono fuori la Maria Teresa d'Austria che diceva, ho detto latino, divite et impera. Dividi le popolazioni che hai sotto e vedrai che potrai governare, per chi begherà tra di loro. Invece che stare tutti uniti e fare una cosa di sinistra, un partito di sinistra, valido, serio, perché non si può separarsi in quella maniera, perché Bersani dice, non fanno cose di sinistra. Allora, cosa potrebbe essere una cosa di sinistra? Mi piacerebbe che mi mandaste anche qua una lettera per dirmi che, allora vi dico io, se dovessi essere di sinistra, quello farei, nazionalizzerei la TIM, nazionalizzerei domani mattina l'agenzia dei telefoni, perché lei è uno schifo e una vergogna. Ti gai una riparazione in casa, non vieni più, perché chi ha il telefono fisso me lo può dire. Ecco, allora io mi domando, ma possiamo andare avanti con gente che mi dice che ci arrivo, ci arrivo. Allora abbiamo detto, io la sinistra non la voto perché? Perché noi fa cose di sinistra, ma fanno cose a favore della destra. Allora a forza di dire che la sinistra non fa cose di sinistra, finisce che la sinistra fa fare cose alla destra e quindi si autocastrano. Allora, diciamo, non voto PD. C'è stato un momento, devo dire la verità, che Renzi non mi dispiaceva. Perché? Primo perché l'era giovane, secondo perché diceva anche cose che non mi dispiacevano, onestamente. E poi purtroppo ho commesso un errore, perché io ero favorevole al referendum, ma siccome il referendum l'hanno trasformato in una Renzi sì o Renzi no, è finita come è finita. Lasciamo perdere? Lasciamo perdere. ha votato no, gente che non l'ha neanche vista, mi e il Parisi l'hanno vista, noi due solo abbiamo letto quello che era il contenuto del referendum. E' andata così. Io però se fossi stato il signor Renzi sarei andato a casa, l'aveva detto che andava a casa e ha commesso un errore. Lui doveva andare a casa. Sarebbero andati a prenderlo. Forse avrebbe fatto cose di sinistra, magari, chi lo sa. Stando a casa, Gavaria Pesasola. Veniamo all'ultimo, il 5 Stelle. Allora, io parlo con tanti di... Ah, mi voto 5 Stelle. Ah, mi voto 5 Stelle. Allora, non lo so, ma non mi convince. Perché dopo domani a Trento, se lo sapete, Grillo fa uno spettacolo al Santa Chiara. Spettacolo suo, eccetera. Ecco, come fa un politico ad andare a fare uno spettacolo? Non lo so. Non lo so. Non vorrei che questo momento 5 Stelle fosse tutto uno spettacolo comico. Non lo so. C'è qualcosa che non convince. Su tante cose siamo perfettamente d'accordo. Però mi sembra, non so, c'è qualcosa che non mi convince. Quindi non voterei. Allora, cosa mi resta? Quella che Gaiocchi che è in fora. Quella fascista lì. La Meloni. Vedi che i suggeritori sono preziosi. Grazie Professor Parisi, perché se no se ne ha male magari a casa. Allora, la Meloni. Ah, troppo pochi. Anche la Meloni. Dovrebbero tutti andare o con forza Italia e anche Salvini. Cosa volete che faccia Salvini sul voto nazionale? Se fosse probabilmente al nord, c'è anche il 90%, lo dico di no, ma al sud? Ma chi è che vota Salvini? Meglio disturbi cerebrali. E adesso c'è il referendum. Referendum del Veneto e referendum della Lombardia. C'è un bellissimo libercolo scritto da Vittorio Feltri e da Zaia che si chiama Ven Exit. Ven Exit. Da Veneto se ne va. E allora ho letto il programma. Ecco, lì questo c'è un programma. Per esempio, l'unificazione dei corpi di polizia con i carabinieri, che verrebbe chiamata la Guardia Veneta. L'unificazione dei sistemi fiscali, modernizzazione nel vero senso della parola. E quindi questi referendum daranno una scossa. Però non sono convinto che queste cose possano andare. Non lo so. Forse è una spinta. E allora che cosa resterà da fare al Carlo Tamanini? Non lo so. O vado a votare e faccio, come qui dell'antifascismo, metto la scheda bianca e dico che ho votato senza dire chi, ma ho messo scheda bianca, o non vado a votare. Perché giunti a questo punto io sono impossibilitato a votare. A me piacerebbe un partito, capite, di sinistra magari, che dicesse guardate noi nazionalizziamo la TIM perché è un errore privatizzarla. Noi rinazionalizziamo le ferrovie dello Stato perché è stato un errore, cosa? E noi eliminiamo questo, eliminiamo quell'altro. Ragazzi, io lo capisco. Questi sono dei programmi di sinistra. Ma i programmi che noi sentiamo essere di sinistra, vuol dire firmare la dichiarazione io sono antifascista. Di questo ne parliamo la prossima volta.